I dati sono il nuovo petrolio e le società tecnologiche in grado di ottenere e gestire enormi quantità di dati lo sanno bene, essendo divenute dei veri e propri imperi economici al pari delle società petrolifere del secolo scorso. Certo, in pochi saremmo ora disposti a rinunciare a tutti quei servizi che queste società ci forniscono, proprio grazie all'accesso a pozzi inesauribili di dati, soprattutto se pensiamo che questi servizi sono forniti gratuitamente o meglio, pagando con una moneta del cui valore non ci rendiamo ben conto, ovvero sia i nostri dati. Tuttavia, questa concentrazione di informazione dovrebbe quantomeno farci riflettere. In questo incontro vedremo se e come sia possibile comprare il burro e tenere i soldi per pagarlo, ovvero continuare a usare tutti questi servizi di cui facciamo uso quotidianamente e di cui non siamo disposti a fare a meno e allo stesso tempo proteggerci dalle conseguenze pericolose di questa concentrazione di ricchezza dell'informazione, di cui siamo stati anche negli ultimi mesi, spettatori un po' attoniti e anche un po' distaccati.